ciao amici ciao a tutti come avrete visto da titolo stasera parleremo di una gara di go kart che si corre al ckc di carasco è praticamente una gara molto particolare si chiama la gara impossibile la gara impossibile per una motivazione perché le sue caratteristiche di questa gara la rendono quasi impossibile praticamente le caratteristiche sono due ore secche senza scendere mai dal kart la regola è che se tu rientri in corsia dei box per qualunque ragione sei squalificato la gara è persa perché la gara si consuma facendo due ore distinta al massimo con i Birel 270 che abbiamo in pista e praticamente zavorrate ovviamente si parte dopo le qualificazioni si parte per due ore la gara va avanti fino al termine cosa vi posso dire è una gara di durata praticamente e mette a seria prova la testa e il fisico anche perché certamente se non sei allenato fare quella gara lì è da pazzi ed è una gara molto bella in quanto anche se arrivi ultimo sei considerato un eroe oltre alla tua formazione per quanto riguarda la guida dei kart ti forma tantissimo è un format che abbiamo inventato io mio fratello folle e ovviamente Enrico che è il proprietario della pista CKC che ci ha dato la possibilità per già due volte di fare questa gara qua in due anni l'abbiamo fatto nel 2019 e nel 2020 e su circa 10.000 persone che hanno corso nel CKC soltanto 11 persone possono freggiarsi di aver fatto questa corsa qui è una gara che è praticamente un tritacarne in ambe due i casi praticamente l'abbiamo corsa sul lepego sul bagnato poi la pista di Carrasco come ben sapete tutti vi ho già fatto un sacco di video è una pista piccola ma è una pista molto tecnica tutta curve con solo due rettilinei e quindi praticamente è una pista molto molto impegnativa probabilmente tra le piccole piste che ci sono è una delle più impegnative tecniche che ci sono quindi immaginate di fare due ore secche con un kart come il Birel 270 senza mai fermarsi è un tritacarne semplicemente un tritacarne se non sei allenato sei sfatto però devo ammettere che nelle due prove che abbiamo fatto nelle due gare che si sono alternati un po' i piloti 11 in totale ho fatto i calcoli stasera nessuno, ripeto, nessuno ha mai mollato e va detto onestamente anche l'anno scorso c'erano tre piloti che non vi farò il nome che per la prima volta hanno voluto fare questa gara qua senza praticamente avere allenamento sono arrivati stravolti, distrutti uno dei quali praticamente a metà gara dopo un'ora non aveva più forza nelle braccia e tutte le curve le faceva dritte nonostante tutto è arrivato in fondo alla corsa e un altro, un mio caro amico che era la prima volta che la faceva è arrivato a fine gara era stato doppiato 22 volte 22 volte in due ore nonostante tutto la fatica lo stress di gara tutto quanto è arrivato in fondo ovviamente ai doppiati non viene messa la bandiera blu quindi i primi quelli diciamo che si giocano per la vittoria sono costretti a cercarsi il sorpasso perché le penalità sono forti cioè se tu tocchi uno con la stanchezza la tensione tutto quanto tocchi uno in malo modo prendi 10 secondi di penalità quindi se tu sei primo ti becchi 10 secondi di penalità quasi c'è la possibilità che butti via la gara poi se sei molto tosto riesci magari a recuperare e anche andare a vincere perché in due ore si può far tutto in una gara del genere poi può succedere qualunque cosa però vi posso dire che a livello di formazione personalmente come gara è una delle più pazzesche che si possano fare e poi il bello di questa gara è che non ti dà nessun punteggio per niente non ha affinità con niente è una gara fine a se stessa è praticamente un massacro voluto deciso che lo fanno i pazzi i pazzi furiosi decidono di parteciparci però una cosa che vi posso dire assolutamente è che quelli che l'hanno fatta quando si parla di kart e parlano e si viene del discorso la gara è impossibile tutti ce l'hanno qua è rimasta qua tutti quelli che l'hanno fatta come una delle cose più pazzesche in effetti è una cosa pazzesca avrete visto qualche foto che vi ho messo il video di qualche pezzone della gara ve l'ho già messo qualche tempo fa quindi potete andarla a visionare col titolo la gara è impossibile e vedrete le fasi saliente quindi la partenza e l'arrivo ma tenete presente che ci sono soltanto i punti salienti perché la gara è durata due ore e c'è stato qualunque tipo di sorpresa infatti ci sono sempre un sacco di sorprese dal momento che in questa gara qua partecipano solitamente quelli un po' più che se la cavicchiano un po' di più anche quelli che poi vengono doppiati non è che ti danno il passo così facilmente te lo devi andare a cercare e di certo uno che sta facendo una gara del genere quando si deve arrivare i primi davanti non è che ti lascia la posizione così ed è fa benissimo tu lo devi andare a cercare non te la danno mai semplicemente quindi praticamente una gara io l'anno scorso la seconda edizione l'ho vinta io giuro giuro dalla commozione dalla fatica quanto piangevo alla fine della gara è stata una cosa devastante devastante giuro molti un altro mio caro amico ha detto che per due o tre giorni non riusciva a prendere la tazza del cappuccino perché non ha forza nelle mani quindi giuro è veramente devastante non sembra mai devastante quando tu fai una gara del genere ti puoi permettere di andare a fare qualunque tipo nell'ambito dei quattro tempi puoi fare qualunque tipo di gara senza avere nessun nessuna difficoltà e vi dico assolutamente è una di quelle cose che se uno è appassionato va provata va provata assolutamente io la consiglio sempre la consiglio sempre a tutti perché è uno sforzo fisico mentale di coraggio perché ci vuole anche coraggio se la porti a termine è una soddisfazione personale anche se arrivi ultimo se è considerato un errore comunque vi consiglio di guardare il video si intitola la gara è impossibile e andatevela a guardare le fasi salienti che meritano meritano davvero e quella è stata fatta l'11 gennaio del 2020 poco prima che incominciasse tutto questo casino che c'è oggi e adesso stiamo pensando di fare la terza edizione se tutto andrà in porto penso che entro fine gennaio dovremo riuscire a fare la terza la terza edizione con questo ragazzi vi saluto volevo parlarvi di questa gara impossibile in modo diretto l'ho fatto sono contento di averlo fatto al prossimo video ciao a tutti e buonanotte alla prossima e buonanotte